Musica E benvenuti ragazzi sono Gili Braga e sono qui oggi Tornato a portarvi un video che purtroppo doveva uscire ieri Infatti doveva uscire sabato ma non lo faccio uscire oggi che è domenica Perché purtroppo venerdì avevo registrato il video E poi successivamente sabato mattina quando sono andato lì per editare Purtroppo c'erano dei file corrotti E quindi non sono riuscito a recuperarla Quindi ho dovuto registrare adesso che è sabato pomeriggio Il video in cui vi mostro almeno la mimetica oro Perché nelle fette di ieri andavo a sbloccarle effettivamente Infatti ho fatto le ultime sfide che riguardavano Ho fatto queste sfide qua nel video di ieri Ho fatto questa qua Esegui 50 decisioni con l'ICR senza accessori e mirino E poi avevo fatto questa qua Insieme l'avevo fatta e avevo sbloccato in live la mimetica oro Purtroppo, oh, capita E quindi andiamo a registrare adesso una partitozza Magari, non lo so, magari andiamo in damage normale, bello pulito No, anzi andiamo Proviamo ad andare per una volta su mosfet cover resistenza E proviamo a tirare qualche streaks Purtroppo in questa modalità qua ci sono veramente tanti tryharder Quindi proverò a tirarle Tirare un po' di streaks, mi sono messo quelle un pelo più pesanti Quindi squadra di droni, elicottero e squadra d'assalto Niente, proviamo e vediamo cosa capita Se non riusciamo a tirarle farò se ci riprogrammo in un prossimo video La classe dell'ICR è questa qua, quella che utilizzo io sempre Fatemi sapere voi quelle classi utilizzate per l'ICR Io utilizzo questa perché mi piace tanto Uh, andiamo su firing range Uccisione confermata Il bello di questa modalità qua è che le partite durano veramente, veramente tanto Quindi c'è tempo, anche se magari parti male durante la partita Di sistemare le cose A parte c'è il presupposto che c'è un prestigio 8 in lobby con la Dark Matter Quindi spero sia con me perché se è contro ci va il culo E noi le streaks le vediamo poi magari in prossima partita Eh, fanculo, figa, hanno quittato tutti tranne quello lì Adesso è entrato in gruppo da 4 Pazzesco, pazzesco Cioè guardate, cioè, ci sono, nella mia lobby ci sono due prestigio 8 Spero almeno di essere in gruppo con quelli da 4 Almeno proviamo, non lo so Comunque le lobby di PC, raga Fingi pure Se uno da PC passa da Playstation Non so come passare da, veramente Passare da giocare contro Cristiano Ronaldo E giocare poi contro Paoletti Mentre il problema è che sono passato da Playstation A giocare su PC Che è un po' una merda Ci pensiamo al Prophet, bello pulito Sono finito nel gruppo dei, quelli che erano in 4, non lo so No, sono finito nell'altro, mi pare E con il gruppo da 2 Però, raga Niente, proviamo Non ne mordiamo Nessuno qua È un fenomeno Comunque come vedete Come potete vedere la mimetica ora è veramente bellissima Esteticamente veramente Veramente, veramente, veramente bella Guardatela bene Guardate che bella, mamma mia Che bella Pazzesca Mori Non so cosa pensate voi Ma secondo me La squadra di droni È di gran lunga La serie La Strix più forte Più utile Rapportata ovviamente Al prezzo che costa Perché Non ci credo L'arma scarica Ho tirato su Pazzesca Mori Tutti mi feriscono sempre un botto Non so Avrò le calamite per i proiettili Non lo so Oh, bella Ma non ci credo Ho ucciso il mio compagno Con la mia mina seeker Pazzesco, raga Mai visto una roba del genere Mamma mia Non ho mai visto una roba del genere Raga Guardatela qua La Dark Matter Oh mio Dio La Dark Matter Del mio avversario Oh, non muore È quello lì Allora Tu muori Mi fai il favore Allora, abbiamo il Tempest Il Tempest È diventato Veramente Veramente Forte, raga Sul bersaglio Nooo Mi ha rubato la piastrina Che mi portava al coso Madonna, raga Sono a 30 punti dal coso Non voglio Non voglio Non prenderlo Ole Oh, grazie Drone Oh, leo Ho preso tutto Raga Mi manca solo la squadra D'assalto Mi pare Sì, ma Me le fanno anche le kill Niente, raga Solo io riesco a tirare le streaks Che non fanno kill Pazzesco Quando tiro io le streaks Non fanno una kill Manco a pagarlo Ovviamente la gente Non rientra Non ci voglio credere Raga Ma guardate questo Guardate questo Pazzesco, raga Cioè, pazzesco che Soprattutto che le mie streaks Non facciano kill Perché Abbiamo fatto tre kill In tutto Pazzesco Ma lol Pazzesco, eh Sto partito qua È stata abbastanza random Però ce l'hai anche avuta bene Sto partita Sono contento Peccato Peccato per quello là Che ci ha rovinato Completamente la partita Purtroppo Guarda di che Non vuole morire Mamma mia Il Tempest Che forte adesso Tempest è diventato Troppo Troppo Forte Accuccia Quello lì non moriva Quanti colpi Ho dovuto tirare Amico Ti stanno spawnando lì, eh Lol Ehi Fratello Madonna ma questi Cosa combinano? Fuori di testa Ma dai Ma questi qua Come Perché? Perché nella vita Fai questa roba qua? Questo voglio capire io Ma questo Oh 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 Questa qua Sto partita qua È proprio bella strana Ehi Voleva uccidermi Voleva Figa Oh Ehi Questo qua È il gilbe spot Regà Tira pure le granate Però poi vieni qua Different Ma dai C'era 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 un manichino davanti Oh Eh Mi dispiace per te A me dispiace Quando dice Chiquini fanno hitmarker Perché non se lo meritano Cioè Io sono il primo a dire Che Chiquini non deve Fare hitmarker Perché già È così tanto difficile Utilizzare Cioè Lo dico Se prendi dal petto in su Non può fare hitmarker Cioè È È scorretto Secondo me Che faccia hitmarker Andiamo solo a vedere Quante kill Effettivamente ci hanno fatto Perché io dico Che ne ha fatti tipo Tre o quattro Con due streaks Forti Perché sono forti Quelle streaks lì Purtroppo È così Uno fatica A tirare le streaks Poi Quintano tutti E niente Oh Ho sbloccato la saug Bella lì Cioè Le squadre di torno Mi ha fatto una kill Una kill Pazzesco E L'elicottero cicchino Mi ha fatto tre Quattro kill Dovrebbero farne almeno Sette o otto a testa Più o meno Solitamente ne fanno Sette o otto a testa Ma quello Raga Aiuto A posto Devi stare a posto Mamma mia Il Tempest Che forte Io penso di amarlo Deve essere un amore Platonico Verso il Tempest Ti salvo gli amico Mamma mia Che forte Che forte Questi qua Gli tiro pure Ne uccido pure Ne uccido pure te Adesso tiriamo anche questo Bella scarsa Questa ricompensa L'ho tirata una volta Ed è stata questa volta qua Bella bella sega Ma questo Piace Mettere la tenda Da camper Faccio l'headshot così Bello pulito Quello lì come l'ha fatta Quello 2 kg Oh mio dio Affanculo Vabbè però 24-7 Bello pulito Ma quello Niente raga Spero che questo video Bello pulito Vi sia piaciuto Fatemi sapere La prossima arma Quale volete che sia E E niente raga Spero che Spero che questo video Vi piaccia Vi ricordo come sempre Di lasciare un bel commentino E niente Ci bicchiamo direttamente Al prossimo V-V-O Oh